è online un nuovo video sul secondo canale molti voi che guardano questi video non sanno che noi abbiamo un secondo canale dedicato solo ai workout e gli allenamenti ovviamente sono tutti gratis provate a dare un occhio comunque il canale si chiama street gorilla workout adesso condividiamo il video pantaloncino di my protein blu a molti voi non piacerà ma vi assicuro che è veramente comodissime raccomando queste raga sono molto importanti quando fate una corsa lunga più che altro perché se correte cinque chilometri ancora ancora una scarpettina qualsiasi potrebbe andare bene quando arrivate ai 10 15 anche 20 la scarpa ci vuole importante come vi ho detto mi piacciono le sfide ultimamente mi sto intrippando con la corsa la bicicletta il caristhenics tutto mischiato e oggi facciamo pezzo di corsa parco pezzo di corsa parco e pezzo di corsa finale sono 20 chilometri per una bella sfida oggi mi aiuterà anche dove io oggi faccio la carovana bene sei pronto sei carico pronto possiamo partire con questo occhiale figo che fra poco troverete sul nostro shop chiale direi di berci un bel goccio d'acqua che l'acqua è la mia ma va bene lo stesso ok siamo a 100 metri e tutto va bene ragazzi siamo ancora all'inizio va bene sarei bello abbronzato quando avrai finito ragazzi la challenge del gorilla è iniziata presto presto sul canale oddio con tutti questi che coccio il camera mi stava mozzando con tutti sti pioppi e non sbatti non metti gli occhiali va dai 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 non si molla qua non si molla mai cazzo c'ho sete cazzo fa caldo c'è una sete com'è sta la sua bici? bello? fa caldo più che altro mica calcante tra l'altro sta arrivando un nuvolone nero fantoziano primo riportimento quando si corre bisogna bere prima di avere la sensazione di sete e noi in questo caso beviamo anzi lui in questo caso beve con l'acqua e usa la borraccia MyProtein 2 km e sono andato al palco il palco è andato siamo siamo al palco raga prima stappa raggiunta guardate qua raga l'acqua è finita dove me l'ha finita tutta bravo bravo quindi dopo dovremmo andare a comprarlo siamo anche senza portafogli tra l'altro però abbiamo una soluzione eh raga questo qua è arrivato e fa cosa fate un giretto qua in zona da Rozzano che coro siamo in Barona sono i chilometri allora raga il circuito della challenge della sfida è abbastanza semplice ma non semplice dipende da quanto siete allenati comunque sono 3 muscle up 10 pull up 20 dips alle parallele poi torniamo alla sbarra facciamo 2 muscle up 10 pull up 30 push up e un muscle up finale per quattro volte raga per quattro volte ovviamente da un giro all'altro 5 minuti di pausa allora Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Due dieci Grazie per la visione 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 Ok ci siamo raga Sono pronto Mi sono lasciate le scarpe Partiamo col secondo pezzo di corsa Quindi direzione Secondo pacco Claudio paradiso Vai che ho sete Paga 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 3 euro Bamma Nel frattempo il ragazzo mi ha prestato il power bank quindi lo pagherò, ti pagherò, ce l'hai Satisfay? Allora non ti pago, mi spiace Ok ragazzi partiamo col secondo workout, primo giro Primo giro è andato, allora qui abbiamo un personaggio molto conosciuto e tanto che non lo vedete, come si chiama e ti chiami? Jacopo Ma che cazzo dici? Non sei Jacopo? Ah è vero freschezza, lui è freschezza ma secondo te Claudio riuscirà a fare questa challenge, riuscirà a portare a termine questa challenge Ma che challenge è? Sai che challenge è? No cos'è? Come boh cos'è? Cazzo dici boh quello lì, che non ha vergogna, che freschezza, che non ha vergogna Buono È un po' squadrato qua lì Ma che sparanato Ma finiamo io, freschezza al giudice abbiamo qua Un po' squadrato Mi sa che l'abbonamento lo pagherai tre volte tanto Mi spiace Ortegaro che cosa vuoi dire? È che finalmente aprono Ma tu verrai da noi in palestra allenata Ma io l'abbonamento ancora Mi ho bloccato l'abbonamento a tutti, te la nega a te Perché sei stronzo Quindi dovrai pagare se vuoi venire Abbiamo il nostro Flower L'avversario di Fresh Il commissario L'avversario di Fresh Ma tu pensi di essere più forte di Fresh? Non per molto Lui è più forte Guardami 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 Non muovere la faccia Era così era Quando te riuscirà a portare a termine questa challenge Sì 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 Bravo Cosa vuoi dire? Vuoi picchiarmi? Ma sincero no Ah come no? Prima dicevi Vieni d'ammazzo box Un incontro amichevole starebbe a fare Ma io ho sfido solo youtuber Quindi non sei uno youtuber Non posso Quindi presto diventerò youtuber Bravo Solo per fare questa sfida Se apri il canale ci sono Va bene Trafico raga qua Eh L'estate al parco è così Tipo la palestra Scegli la manino E si fa la fila Raga in un circuito come quello di oggi Non è importante solo integrare alla fine Ma è molto molto importante integrare anche intra workout In questa borraccia ci ho messo gli aminoacidi Che aiutano al recupero e comunque l'intra aiutano parecchio Ok raga ci siamo Ultimo pezzo di corsa Manca poco com'è? Ciao Sei stanco? Un chilometro Sei stanco? Eh Un po' di mattimizza E le gambe si sentono Dai manca poco Dai dai Ci siamo Ormai Bisogna finire Iniziato devi finire Siamo quasi C'è pure un po' di box Ho visto che ci facciamo Tvlog Anche nel fuggilato C'è un po' di Un po' di vuoti Venti al collo Ventuesimo chilometro Ultimi 900 metri Vai 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 Venti chilometri E due workout al parco Ho il fiatone Bene raga Oggi la sfida è conclusa Sono contento di essere riuscito ad arrivare alla fine Non è per niente facile Anche perché spezzare la corsa purtroppo Alcune volte è peggio Perché ci si riposa Poi la gamba riprende lo strattone Non è il massimo Ma comunque veramente una grande challenge Provate tutti voi a casa a farla Chiaramente taggateci sulle vostre storie Sui nostri profili Instagram Anzi seguiteci se non lo fate già Ringraziamo Satispay che grazie a questa app Ragazzi oggi ci siamo salvati veramente il culo Perché io ovviamente andando a correre Non avevo il portafoglio Avevo solo il telefono E col telefono ho pagato l'acqua Top Meglio di così non si poteva Cioè proprio è top veramente Scaricatela anzi Il video conclude qua Mi raccomando lasciate un like Anche perché noi I contenuti Facciamo tutti real raga Avete visto Se non ci credete Non lo so Non so cosa dirvi Ma i contenuti sono tutti real Quindi lasciate un like Condividete il video Mi raccomando iscrivetevi Qua sotto Attivate la campanella raga Perché se non attivate la campanella Le notifiche non vi arrivano E i nostri video Ve li perdete tutti E non potete perdere i nostri video Detto questo raga Ci vediamo Al prossimo video Pio pio pio